ciao benvenuti alla seconda lezione di skate una lezione importante io vi sto facendo vedere le cose senza alcun tipo di protezione non è assolutamente giusto lo faccio solo per farvi vedere come sono i movimenti più più fluidi ovviamente voi quando iniziate tavola resistente e protezione ginocchiere, gomitiere, polsiere e caschetto dovete prendere confidenza con la tavola innanzitutto potete salire come volete questo però è un modo sbagliato perché vi dà un'impostazione del tutto errata perché il mio piede sinistro non dovrebbe essere così spostato al lato della tavola perché non è la posizione corretta per potersi muovere quindi un consiglio che vi do è questo cominciate ovviamente a prendere confidenza con la tavola quando avete un po' più confidenza alzate la tavola da un lato e andate al centro della tavola con l'altro piede la tavola vi segue e avete una posizione accettabile per poter andare ovviamente poi dovete spostare il piede per fare holly, kickflip, headflip e tutti i tipi di salti esistenti ma questa è la posizione base per poter muoversi con lo skate per scendere non avete paura la tavola si muove ma non vi porta via alla terza lezione quindi